Questo è un esempio di impianto per trattare la parte a residuo, quella che non è stata recuperata. I materiali vengono fatti massare attraverso dei nastri trasportatori, vengono recuperate le materie recuperabili, viene stabilizzata, cioè avviata un processo di compostaggio secondario alla frazione organica e poi messo in sicurezza e discarica, quello che rimane. Ma quello di cui c'è bisogno adesso è studiare, avere un centro di ricerca che studi questi materiali di sito, soprattutto quelli non riciclati. Questi centri di ricerca di tutti zero devono essere quel po' di professori, studenti ed esperti di tutte le menti più positive che ci sono. Grazie.